buongiorno a tutti in questo breve video vi mostro come mandare un messaggio ad un'azienda tramite la scheda google maps apriamo google maps cerchiamo vicino a noi ad esempio architetto ecco che abbiamo uno studio di architettura giovanna zerbo clicchiamo sulla scheda nella scheda troviamo in basso un pulsante messaggio clicchiamo ed ora possiamo mandare un messaggio alla nostra azienda di informazioni per una ristrutturazione ok adesso vi faccio vedere come trovare i messaggi inviati per fare questo e rispondervi da dalla parte dell'azienda diciamo per fare questo avete bisogno dell'applicazione google my business in google my business abbiamo tutte le schede gestite da noi in questo caso io gestisco anche quella dell'architetto zerbo quindi cambiamo gestione studio di architettura giovanna zerbo insieme a statistiche follower abbiamo anche in basso il pulsante clienti clienti e la tab messaggi ecco qua il messaggio a cui rispondere ci clicchiamo e rispondiamo mi chiami al numero di telefono che vogliamo oppure mi lascia il suo recapito può anche scrivere qui in via ecco fatto niente di più semplice abbiamo anche noi che abbiamo inviato il messaggio l'arrivo della notifica di risposta grazie e ciao a tutti